Frizzante e giovanile Vivace, brillante, un bocciolo di primavera visto che primo livello L'unione di due mondi, la produzione di vino e la sommellerie Bellissima serata, un evento organizzato alla perfezione La non edizione di un bellissimo progetto, Wine Maker e Sommelier Incontro fra produttori e sommelier che stasera terminano il corso di primo livello E' la prima che facciamo in una bella location, una masteria didattica Tra touri reali con un parterre stasera di produttoria molto interessante Soprattutto che abbraccia tutta la Puglia Per poter confrontarsi con i produttori, far conoscere ai corsisti produttori Che poi alla fine, lo scopo è anche quello Diventiamo dei comunicatori del territorio E conoscere la faccia dei produttori La loro storia, le loro fatiche E' più importante per noi saperlo Per poterlo poi trasferire a Chirvino Dobbiamo consigliarlo Buongiorno Buongiorno Buongiorno